Ci sono imprese che sembra impossibile anche solo immaginare, come ricreare lo storico circuito di Monza in scala 1 a 1 nel cuore del deserto. Un'opera imponente, lunga 5.793 metri. Tutto il circuito è stato riprodotto fedelmente, sia in raggi di curva che le distanze. L'Esmo, Ascari, parabolica. Percorse in modalità X off-road. L'equilibrio perfetto tra potenza, trazione e velocità. Traiettoria perfetta, arriviamo alla variante Ascari. Che spettacolo, ragazzi. Mi sembra di chiudere gli occhi e correre come a Monza. Nuova BMW X5. Volere e potere.